We Want Radio presenta Fanta Manager, una guida sicura per le scelte più importanti del tuo fantacalcio. Scala la classifica della tua fantalega. Fanta Manager, i consigli giusti. Solo su We Want Radio. E benvenuti, benvenuti in onda su wewantradio.it a tutti i nostri fantamaniaci sintonizzati sulla nostra emittente web proprio in questo sabato mattina, primo marzo, alle ore 12.01 a Roma, piove. Fateci sapere che tempo fa dalle vostre parti. Voi potete ascoltarci, chiaramente, ascoltare me che sono Davide, ma anche il resto della nostra programmazione, incluso Fanta Manager, sia su www.wewantradio.it che sulle nostre applicazioni per Android e iPhone oppure attraverso l'applicazione TuneIn che trovate un po' per tutti i dispositivi. cercando semplicemente We Want Radio. Potete anche guardarci ai noi che ci dobbiamo fare belli con la nostra diretta video. Tutte le nostre dirette andranno anche in onda dal punto di vista delle immagini. Proprio basta cliccare sul nostro sito, guarda la diretta e potete vedere che cosa fanno i vostri speaker con i bigolini, la vestaglia e le ciabatte mentre vi parlano. Allora ragazzi, come al solito, approfondiremo le tematiche relative al Fanta Calcio in questa nuova puntata. 26esima giornata di Serie A, altra giornata spezzatino, tra l'altro molto interessante perché ci sono tanti match di cui vale la pena e anzi è necessario parlare. Prima fra tutti quello di questa sera. Andiamo però a fare un attimo il punto della situazione, delle partite che si giocheranno nella 26esima di Serie A. Questa sera vi dicevo Roma-Inter, poi domani Cagliari-Udinese alle 12.30. E infine la partita delle 15, Atalanta-Chiavo-Verona, Genoa-Catania, Sassuolo-Parma, Torino-Saldoria, Verona-Bologna. Posticipo delle 18.30, Livorno-Napoli. Domenica sera non ci sarà nessun'altra partita perché ci sono in realtà due partite molto importanti lunedì. La prima è Fiorentina-Lazio, la seconda è Milan-Juventus. Per cui sicuramente due partite che in altri campionati avrebbero potuto essere molto importanti. in questo campionato, in questa stagione, in realtà sono importanti solo per uno dei due team al loro interno. Parliamo chiaramente della Juve prima in classifica in Milan-Juventus e della Fiorentina che sta facendo un ottimo campionato in Fiorentina-Lazio. Milan e Lazio purtroppo sono un pochino attardate. Questa è la classifica con cui ci si appresta ad affrontare questa nuova tornata di Serie A. Juventus prima a quota 66, seguita dalla Roma a 57, Napoli 51, Fiorentina a 45, Inter 40, Verona 39, Parma 37, Torino 36, Milan 35 insieme alla Lazio, Genoa 32, Udinese, Sampdoria e Atalanta a quota 28, Cagliari 25, Chievo 21 a pari merito con il Bologna e poi Livorno 20, Catania 20, Fanalino di Coda e il Sassuolo a quota 17. Tanti temi importanti e interessanti da approfondire in questa puntata di Fantamanager. Noi lo facciamo non prima del nostro salvolito jingle. Fantamanager! Rientriamo in diretta perché dobbiamo andare innanzitutto a dirvi quali saranno i big match come un po' vi avevamo già introdotto. Ricordarvi naturalmente che nel proseguo della puntata ci collegheremo come nostro solito con Vincenzo Di Mauro di Fantagazzetta.com, l'esperto di informazioni che risponde alle domande che potete chiaramente inviare scrivendo a diretta a chiocciola wewontradio.it oppure inviando un sms al 388 6409 278. Tutti i dettagli li trovate anche in sovraimpressione nella nostra diretta video sul sito www.wewontradio.it. Allora iniziamo subito perché andiamo a posare la nostra lente di ingrandimento su due partite in particolare. Il primo match che abbiamo scelto è la sfida dell'Olimpico tra Intel e Roma, due squadre che cercano conferme per non perdere terreno in classifica. Tante le assenze fa i paradoni di casa con Garcia che recupera in extremis almeno Torosidis in difesa e Florenzi che però partirà dalla panchina. Nel ruolo di terzino sinistro Romagnoli sembra in vantaggio su Bassos mentre a centrocampo rientra fra i titolari Strotman. In avanti Gervinio e Giaic saranno gli esteri mentre destro da schierare agirà da centro avanti. Mazzari recupera Hernanes che probabilmente partirà dalla panchina mentre Cambiasso dovrebbe riprendere il suo posto davanti alla difesa. Ballottaggio Jonathan D'Ambrosio sulla fascia destra mentre in avanti aggira Icardi da schierare. Dal punto di vista statistico la partita si fa ancora più interessante con le due squadre che si fronteggiano in tutte le graduatorie. Ad esempio i giallorosi prevalgono nella pericolosità 65% contro il 56% mentre i nerazzurri sono in vantaggio nella supremazia territoriale 13 minuti e 20 contro i 12 minuti e 51 secondi della Roma. Il capocannoniere della sfida è Rodrigo Palasio a quota 11 in ambito assist invece sono due i leader ovvero Francesco Totti e Riccardo Alvarez entrambi a quota 7 passaggi vincenti. Quindi è interessante anche vedere questo primo paragone dal punto di vista anche della statistica è assolutamente interessante e importante. L'altro match invece che abbiamo scelto per voi è il super posticipo di lunedì di San Siro che vede opposte Milan e Juventus in una sfida dal fascino sicuramente intramontabile che può dare indicazioni importanti per entrambe le squadre fra i padroni di casa e c'è anzi per Balotelli che dovrebbe recuperare almeno per la panchina con Pazzini dall'inizio. In difesa Sedorf recupera De Sciglio e Ainoi Bonera mentre al centrocampo Poli è favorito su Honda per completare la linea di trequartisti. Noi vi suggeriamo Tarapt. Conte deve scegliere tra Cazeres e il rientrante Chiellini in difesa. Sulla sinistra Peluso è favorito visto il difficile recupero di Esamoa mentre al centrocampo Marchisio da schierare li leverà lo squalificato Vidal. Dalla punto di vista statistico il gap in classifica farà possesso palla 29 minuti e 55 secondi del Milan contro i 28 minuti e 50 secondi della Juve mentre bianconeri sono in vantaggio nella percentuale di passaggi riusciti 74% contro il 72% del Milan. Il bomber della sfida è il neo capocannoniere Tevez e la Paci comanda anche pensato un po' la classifica degli Astis con sei passaggi vincenti al pari del suo compagno di squadra Paul Pogba. Sicuramente una Juventus che sulla carta è molto favorita visto i 9 punti di vantaggio in classifica, visto quello che sta dimostrando di poter fare in questi giorni e visto soprattutto che il Milan deve ancora un po' trovare il bandolo della matassa dovendosi oltretutto dividere anche tra campionato e l'impegno di Champions. Ricordiamo che la prossima settimana il Milan dovrà affrontare la sfida di Champions contro l'Atletico Madrid e il ritorno che ha già perso per 1-0 in casa per cui un impegno sicuramente difficile che drena energia alla squadra dal punto di vista psicologico. Andiamo però ora con il treno delle nostre formazioni perché dobbiamo fare il nostro dovere prima di sentire Vincenzo Di Mauro Partiamo da Cagliari-Udinese. Lopez recupera Pisano ma deve rinunciare agli squalificati. Dossena e Dekdal con Vesino ed Ericsson al loro posto. In avanti Adrian da schierare a girare le spalle di Piniglia e Ibarbo. Guidolin recupera Ert e Pereira ma perde Lazzari e Domizzi. Gabriele Silva dovrebbe farcela, vi suggeriamo Fernandes. Atalanta, Chievo Colantuono sceglie Cigarini e Carmona a centrocampo mentre in avanti Maxi Morales potrebbe essere rimpiazzato da De Luca. Da schierare Brivio per Corini pochi dubbi con Frey a rilevare lo squalificato Sardo e Temai ad appoggiare la coppia Toro da schierare Paloschi. Genoa-Catania, Gasperini dovrebbe optare per Sturaro a centrocampo in luogo dello squalificato Matuzalem mentre in avanti Ferfazzidis è in vantaggio su Sculli per completare il tridente con Gilardino e Conate che vi consigliamo. Problemi in attacco per Maran che dovrebbe optare per un 3-5-2 con Keco e Leto coppie d'attacco. Il nostro consiglio è Lodi, Sassuolo, Parma, Malesani recupera Brighi e Magnanelli a centrocampo mentre in difesa Riaudu è favorito su Antei. In avanti Berardi aggira al fianco di Flocari da schierare Gabbiadini, scusate di Flocari assolutamente da schierare. Per quanto riguarda Donadoni si conferma la formazione tipo con Marchionni a centrocampo e Molinaro sulla fascia sinistra. Il nostro consiglio è Parolo. Torino-Sampdoria, Ventura, Schiera, Maximovic e Pasquale al posto degli infortunati Moretti e Masiello mentre Farnerud rileverà lo squalificato El Caduri. Il nostro consiglio è Darmian, Mialovic recupera De Silvestri mentre Gastaldello è in dubbio e potrebbe essere rilevato da Fornasie. In avanti Eder sarà supportato dal trigo Soriano, Kristsic-Gabbiadini da schierare Oviang. Livorno-Napoli di Carlo sceglie Coda in difesa con Emerson avanzato a centrocampo con la coppia Emegara-Paoligno in avanti. Eberfodil pronto a subentrare, suggeriamo Mesba, Benitez sceglie Enrique e Pandev al posto degli squalificati Albiol e Higuain con Amsic nel trio offensivo. Suggeriamo Giorginio. Fiorentina-Lazio, Montella sceglie Anderson e Fernandez al posto degli squalificati Pizarro e Borca Valero con Vargas a sinistra e il ballottaggio. Ilicic, Joachim per affiancare Matri che farà staffetta con Gomez. Noi suggeriamo Quadrado, Reia li lancia invece Beriscia fra i palli mentre in difesa Zana dovrebbe essere protagonista, dovrebbe giocare. Insomma bisogna vedere, perché chiaramente rileverà il buon Dias, bisogna vedere poi che cosa sarà effettivamente in grado di fare la Lazio. In avanti Close da schierare sarà supportato da Candreva e Lulic. Verona-Bologna, Mandorrini deve fare a meno dello squalificato Toni che sarà sostituito da Gomez con Donadella al centrocampo e Marquez in difesa. Noi vi suggeriamo Jankovic. Ballardini recupera Perez al centrocampo mentre in avanti Cone è pronto a rilevare il febbricitante Cristaldo. La nostra scelta, il nostro suggerimento va su Cristo Dulopulos che chiaramente agirà là davanti. Io nel frattempo ho vinto un premio perché sono riuscito a dire Cristo Dulopulos senza fare errori e il premio è quello che ci andiamo a sentire proprio ora. Loro stanno andando molto forte con questo ultimo pezzo in rotazione su tutte le radio. Questo è Rather Be, la canzone featuring Jess Klein e questa è Clean. E rientriamo in diretta. 12-15 minuti e 36 secondi in questo sabato mattina piovoso in quella di Roma. Vi teniamo compagnia parlandovi niente po' po' di meno che di Fanta Calcio. Come al solito con il consueto appuntamento con Fanta Manager. Io sono Davide, vi terrò compagnia ancora per una mezz'oretta all'incirca. Tra poco andremo a sentire Vincenzo Di Mauro, l'esperto di formazioni di fantagazzetta.com. Nel frattempo però vi dobbiamo ancora raccontare qualcosina perché dobbiamo innanzitutto andare a parlare insieme di quella che sarà per noi la formazione ideale. Cioè la formazione che voi fantalenatori potreste mettere in campo nel caso aveste a disposizione tutti i giocatori, ma proprio tutti i giocatori della Serie A. Noi ve la andiamo a postare sulla nostra pagina fan, non prima però di avervela detta. In porta schieriamo il portiere del Parma che sta attraversando un ottimo periodo mirante. Poi difesa 3, Brivio, Benatia e ancora un giocatore del Parma, Paletta. Poi centrocampo a 4 con Quadrado, il redivivo Marchisi insieme a Giorginio Biang. Attacco con Icardi, Close e Conatè. Un'alternativa sicuramente diversa rispetto al solito, quella di Conatè che però sta facendo molto bene nel Genoa di Gasperini e che abbiamo voluto inserire proprio per dare la possibilità ai fanta allenatori di scoprire qualcosina di diverso. Dobbiamo andare però a dare anche un'occhiata a quelle che sono le statistiche. Tra l'altro vi diciamo che poi verso il finire della puntata ci sarà una nuova, sfiziosissima rubrica che abbiamo preparato per voi. Ogni settimana metteremo sotto la nostra lente di ingrandimento un giocatore per farvi vedere un po' di numeri e per farvi capire quanto può esservi utile o meno in ottica fantacalcio il giocatore che vi consigliamo in funzione delle formazioni che di solito mettete in campo e schierate. Ovviamente nel proseguo della puntata ci collegheremo anche con Giuseppe. Nel frattempo io vorrei salutare Mauro, Francesco e Giulia che ci fanno i complimenti per la trasmissione e Franco che dice salutatemi in diretta, oggi sono diventato papà. Ciao Franco, tanti auguri. Avrai il bambino da una parte e la fantaformazione dall'altra. Speriamo di no perché se no tua moglie avrebbe ragione ad arrabbiarsi anche se siamo convinti. Franco non ti conosciamo che sarai però un ottimo papà sulla fiducia perché fai bene al fantacalcio e quindi sulla fiducia pensiamo che tu possa essere anche un buon papà. Sto un po' tergiversando perché sto cercando di recuperare la classifica cannonieri, e dicevamo in testa Carito Steves, non scordiamoci che però sul gradino più alto del podio c'è anche l'infortunato e il lungodeggente Pepito Rossi a quota 14. Al secondo posto a quota 13 troviamo Iguaini, Immobile e Lucatoni, a quota 12 Berardi, a quota 11 Cerci, Gilardino, Rodrigo, Palazio e Arturo Vidal. Poi a 10 Valotelli, L'Oriente, Paulinho a quota 9, Caleion, Cassano, Eder e il buon German Dennis. Per quanto riguarda invece gli assist, primo in classifica è Alessio Cerci del Torino insieme a Romulo del Verona e entrambi con otto passaggi vincenti. Per quanto riguarda invece il secondo posto abbiamo Iguaini insieme a Luca Toni, Francesco Totti e Borca Valero, oltre a Riccardo Alvarez. A quota 6 invece, a quota 7 scusate, invece a quota 6 Luca Cigarini, Kevin Stratman, Carlito Steves, proprio lui, Gervigno e a quota 5 Candreva Cassano, Freddy Guarin, Stefan Licksteiner, Palazio, Miralem Pjanic e Pogba insieme a tutta un'altra sfilza di altri giocatori. Allora noi apprestiamo il collegamento con Vincenzo Di Mauro, andiamo e ci fermiamo per una pausa spot e un po' di musica. Iguaini qui alle 12.23 su wewontradio.it, rientriamo in diretta, in trasmissione, perché è arrivato il momento di connetterci, come il nostro solito, con gli amici di fantagazzetta.com, in linea con noi Vincenzo Di Mauro. Ciao Vincenzo. Ciao Davide, buongiorno agli ascoltatori. Allora, questa è una giornata abbastanza calda, commentavamo prima fuori diretta, perché abbiamo due big match, quello di questa sera e quello di lunedì. Che cosa si devono aspettare i fantagazzatori dalle formazioni e soprattutto dai giocatori che andranno in campo? Beh sì, Roma-Inter, match di cartello, i giallorossi vogliono vincere per mantenere il passo della Juventus, García ha recuperato Pjanic, Gervinio e Torositis, non ce l'ha fatta invece Capitan Totti, che proverà a tornare contro il Napoli, fuori anche Mekon. Una piccola speranza invece per Florenzi, il centrocampista è stato convocato, ha questo problema la cavia rimediata a Bologna, dovrebbe partire dalla panchina e il tridente dovrebbe essere Jaic, destro, Gervinio. Nell'Inter invece Mazzari con il dubbio Hernanes, il brasiliano ha un fastidio muscolare non del tutto superato, anche se si è allenato in gruppo nelle ultime sedute, si valuterà in extremis e rampa di Lanci Cardi, che ha fatto molto bene nelle ultime uscite. Per quanto riguarda invece il match di San Siro-Milan-Juventus, Sedorf può sorridere perché l'infermeria va svuotandosi, Abbiati e Bonera hanno recuperato dall'influenza, in gruppo anche Robbigno, Birse e Costante durante la settimana e hanno recuperato soprattutto De Scigli e Pazzini, che si candidano per un posto dal primo minuto nell'11 rosso-nero, Balotelli invece ancora lavora in palestra ieri per il problema alla spalla, dunque possibile panchina per Super Mario, ballottaggio poi tra Poli e Onda a centrocampo. Nella Juventus questa mattina rifinitura a Vinovo, Conte tiene d'occhio le condizioni di Asamoa e Chiellini, in forte dubbio entrambi per problemi muscolari, al posto del Canese dovrebbe giocare Peluso. Piccola speranza per Chiellini, che è stato anche convocato in Europa League a Trebisonda, dove la Juve ha vinto, piccola speranza per il difensore, anche se comunque c'è casa, resta in preallarme, in attacco torneranno Llorente e Tevez dopo il turno di riposo appunto in Europa League. Ecco, c'è da dire, proprio a fronte di quello che è anche successo in Europa League in settimana, che alla fine poi ci saranno poi degli impatti anche sul campionato, perché mentre Juventus e Fiorentina continueranno entrambi, almeno fino al prossimo turno visto che si scontreranno, la Lazio si libera e secondo me si libera anche di un fronte, quello europeo, che sì era un po' più di prestigio, ma era anche molto oneroso per la rosa ridotta che deve gestire Reia. Secondo te questo quanto influenzerà le prestazioni dei giocatori e soprattutto la politica che Reia attuava nello schierare la squadra in campo? Sicuramente in Europa League la Lazio ha messo in mostra i suoi gioielli, di Onazzi, Perea, che dà questi ultimi due in gol anche giovedì sera. Per loro ci sarà meno spazio in campionato, perché comunque il terzetto che andreva Mauri Lulic alle spalle di Close è un po' un punto fermo per i biancocelesti, quindi a livello fantacalcistico questi giovani perdono anche un po' di appetibilità. Certo, la rosa è ridotta, se si considera anche un acquisto come quello di Postiga, per fare il fiato a Reclose, che invece il portoghese è fermo ai box per questo problema al polpaccio, che sembra di difficile risoluzione per lo staffo medico, viene monitorato costantemente, ma al momento non recupera. La Lazio ora si tufferà sul campionato, ha questa grana anche Maschetti, tra i pari il portiere lo conosciamo tutti, è validissimo, ma purtroppo ultimamente le sue prestazioni non sono delle migliori, un po' di problemi fisici, forse anche qualche problema privato, quindi Beriscia è stato confermato tre pari, dovrebbe giocare anche a Firenze il portiere albanese. Tra l'altro l'esclusione è abbastanza prevedibile, considerando anche la bruttissima prestazione di Marchetti proprio giovedì in Europa League, è stato disastroso, fondamentalmente la Lazio è uscita molto per colpa sua, per cui già prima sembrava che ci fosse qualcosa, come dicevi tu dal punto di vista personale, piuttosto che con l'allenatore, per cui il giocatore non scendeva in campo, di fatto oggi è ancora più difficile vederlo in titolare, no? Beh, purtroppo sì, ti ripeto, a me è un portiere che è sempre piaciuto, al fantacalcio l'ho avuto anche negli anni passati con molta soddisfazione, però purtroppo nell'ultimo periodo, soprattutto giovedì sera, ha dimostrato di non essere al top, sia fisicamente che psicologicamente, dunque è giusto dare fiducia a Beriscia, che comunque nelle gare che ha disputato ha tenuto anche la porta inviolata, quindi insomma un portiere che si è dimostrato affidabile, nonché nazionale albanese. Non ha fatto male, esatto, giustamente, dici diamo spazio a lui, visto che Marchetti non è al massimo, e Reia sicuramente è della tua stessa opinione. Allora, iniziamo con le domande, e ci scrive Raffaele da Grumo a Pula, provincia di Bari, e dice, ciao ragazzi, ho bisogno di aiuto, e fino a qua, ok. Allora, ho Tony, ma questa giornata non giocherà, quindi che faccio? 3-5-2 con Mati Fernandez, oppure, tengo il tridente, ma faccio giocare Eme Gara? Eme Gara nell'ultima gara non ha di certo brillato, in settimana si sono fatte sempre più insistenti le voci di un possibile sorpasso di Belfodil, a discapito appunto del giocatore Xiena, dunque è possibile vedere in coppia Belfodil Poligno contro il Napoli dal primo minuto, nelle nostre probabili formazioni di fantagazzetta.com, Belfodil lo portiamo con un 60% di titolarità, a discapito del 40% per Eme Gara. A questo punto io a Mati Fernandez lo schiererò a prescindere, non conosco ora gli altri centrocampisti dell'ascoltatore, però è un giocatore che nell'ultima gara entrata ha fatto un gol eccezionale su punizione, sono squalificati Pizarro e Borca Valero, dunque un posto a Montella sicuro lo troverà per lui anche dal primo minuto contro la Lazio. A questo punto provenderebbe il 3-5-2 con Mati Fernandez. Sarebbe interessante capire quali sono gli altri giocatori che ha a centrocampo Raffaele, però non ce l'ho scritto, quindi comunque con Mati Fernandez, come consigliava anche Vincenzo, andiamo sul sicuro. Invece Federico D'Acomo dice ciao, tifo Inter, quante possibilità ci sono di vedere Hernanes titolare? Spero che questa sia anche una domanda perché ce l'ha al fantacalcio, perché se no... Poi dice invece, Icardi può esplodere stasera? Guarda, le scelte di Mazzari sono legate proprio alle condizioni di Hernanes e a questa voia che ha Icardi di giocare e di fare bene. Icardi è entrato a Firenze, ha segnato, è entrato contro il Cagliari, assist per Rolando all'ultimo minuto, ha colpito una traversa. Un giocatore che vede benissimo la porta, che sta ritrovando una buona forma fisica. Dunque, fantacalcisticamente per me è da schierare, indipendentemente se partirà dal primo minuto o subentrerà. Per quanto riguarda Hernanes, Mazzari ieri ha detto che il problema non è definitivamente superato. Dunque, il dubbio ce l'ha lasciato. Si proverà a recuperare, il giocatore ha una grande tenuta del dolore, dunque vorrà scendere in campo, soprattutto contro la Roma, perché è un po' un derby, essendo ex-laziale. Ti ripeto, fantacalcisticamente schiererei anche Hernanes, però mi coprirei bene perché la certezza che giochi non c'è proprio. Invece Guido da Montefiascone dice Ho un dubbio, meglio Enrique o Molinaro? Chi metto? Guarda, Enrique dovrebbe giocare al posto di Albiol nel Napoli, visto la squalifica dell'ex giocatore Real Madrid, ma Molinaro ha fatto veramente bene nell'ultima uscita, ha tolto il posto a Gobi, il Parma sta giocando bene, Molinaro spinge anche abbastanza sulla fascia sinistra dei Ducali, dunque io dare fiducia a Molinaro senza pensarci troppo. E invece, esatto, è un giocatore che è da tenere sott'occhio, Molinaro, come dicevi tu, perché può essere uno di quelli che tomo tomo cacchio cacchio, come diceva qualcuno, può farti fare qualche punto in più. Invece Massimo D'Arovigo dice Ciao ragazzi, ma secondo voi questa può essere la giornata del ritorno al gol di Mario Gomez? Partirà titolare? Guarda, Mario Gomez è andato in Europa League e gliel'hanno annullato per fuorigioco. Era regolare. Anche questo è vero. non dovrebbe partire titolare, non è ancora al top della condizione, il suo fisico richiede tempo per entrare nella miglior forma possibile, dovrebbe partire Matri, noi diamo Matri al 70% con Gomez al 30% nelle nostre probabili formazioni, ma di sicuro Mario Gomez entrerà come entrato in tutte le ultime partite della Viola, dunque si schieratelo perché il gol è nelle sue corde e potrebbe segnare da un momento all'altro. Quindi noi davamo, anche noi prima parlavamo di una probabile staffetta con Matri nel caso non partisse di idolare nell'attacco della Fiorentina. Bene, Vincenzo, io come al solito ti ringrazio per il tuo prezioso aiuto nel dare consigli a schierare la formazione migliore ai nostri fanta allenatori e ci vediamo per la prossima giornata di campionato. Perfetto, buon weekend, saluti a tutti. Ciao, ciao, salutiamo il buon Vincenzo Di Mauro, l'esperto di formazione di fantagazzetta.com. Noi stiamo cercando di entrare anche in contatto con il buon Giuseppe Cerbarano, che però ci comunica che nella sua zona è testè, è andata via la corrente, per cui cerchiamo di capire se si riuscirà a ripristinare la corrente a casa di Vincenzo, diciamolo pure che è a casa sua, e vedere se riusciamo poi a connetterci per effettuare il nostro consueto punto anche con lui. Noi nel frattempo ci fermiamo per la terza pausa musicale di questa puntata. Loro sono gli As Animals e questo è I See Ghost. E rientriamo in diretta, sempre su wewantradio.it, 12.36, questi erano gli As Animals, I See Ghost, che tradotto sarebbe Io Vedo Fantasma, un pochino cacofonico da dire in italiano, sicuramente a maggiore effetto se detto in inglese. Ragazzi, noi abbiamo cercato di connetterci con il buon Giuseppe, che però ci informa che dalle sue parti si sta scatenando il diluvio universale, che la corrente continua a non ritornare, per cui noi lo ringraziamo ovviamente per aver collaborato come al solito con noi e averci aiutato a preparare i testi di questa puntata. Lo sentiremo sicuramente nell'appuntamento di lunedì in cui dovremmo fare diverse cose, tra cui ai noi darvi le formazioni dei due posticipi di questa giornata per il consueto campionato spezzatino, che questa volta diventa un pochino super spezzatino, visto che addirittura si giocherà come spesso accade su tre giorni, sabato, domenica e lunedì. Questo un po' per gli impegni in Coppa delle diverse squadre, ma anche e soprattutto direi io, ma al di là delle motivazioni che potrebbero essere più che lecite di ordine pubblico, anche per permettere alle televisioni di mandare in onda una partita alla volta. Di certo, i bei pomeriggi di qualche tempo fa, in cui c'erano 9-10 partite da domenica, ci si sintonizzava su tutto il calcio minuto per minuto, non esistono più ai noi. O anche un novantesimo minuto con Bisteccone e Galeazzi, per chi come me era adolescente e si interessava molto al calcio negli anni 90. Allora, rubrichina nuova, come vi dicevo prima, l'avrebbe dovuta fare Giuseppe, però tocca fare a me il compito da questa puntata. In poi il sabato vi consiglieremo un giocatore da tenere d'occhio, un giocatore da monitorare, li andremo a scovare tra tutti i giocatori della Serie A, un piccolo suggerimento per aiutarvi anche a gestire il vostro campionato di riparazione, qualora poteste ancora effettuarlo. Il nostro consiglio di oggi, quindi mettiamo sotto la lente di ingrandimento, il buon Giacomo Bonaventura dell'Atalanta, età 24 anni, ruolo centrocampista, pensate quest'anno 19 presenze, 2 gol e 3 assist, questo abbinato ad una sola ammunizione e a zero espulsioni, per una media voto di 6,263 ed una fanta media di 6,553. Quindi assolutamente un giocatore da tenere d'occhio, di solito non costa neanche tantissimo, quindi dovrebbe essere abbastanza accessibile, vero è che negli ultimi anni in parecchi si sono accorti di lui, quindi potreste essere costretti a scuscire i cordoni della borsa, più del dovuto, per portarlo nella vostra rosa. Segni particolari per noi è un esterno di centrocampo, abile anche in ripiegamento molto tecnico, con grande velocità e giocate decisive. Peso specifico alto nella propria squadra e rendimento costante, unito all'alta possibilità di prendere bonus, come abbiamo visto, gol e assist sono nelle sue corde, per cui consiglio di questa settimana, sotto la nostra lente di ingrandimento, va appunto Giacomo Bonaventura. Allora ragazzi, anche questo ve l'abbiamo detto, a questo punto noi saremmo pronti, come al solito, per chiudere la puntata e continuare la nostra giornata radiofonica con le repliche del sabato e per andare ovviamente a mangiare, noi che invece torniamo a casa. Pronti? Via! Chiudiamo la puntata! Arriva! Fanta Manager! Il nostro gingolo alle volte si fa un po' aspettare e fa il prezioso, anche quando uno prova a fare l'entrata all'effetto. Nel frattempo salutiamo e ringraziamo Marino, Pio e Giacomo, che anche loro ci fanno i complimenti, dicono mi fate fare il fantacalcio e anche quattro risate, grazie Pio. Tra l'altro noi ritorneremo come al solito, questo è il momento di ricordare gli appuntamenti, torneremo come al solito in diretta, lunedì alle 20.30, all'inizio della serata di sport in compagnia di WeWantRadio, 20.30 appuntamento con me per Fanta Manager, alle 21.15 l'appuntamento è come al solito con Alessio De Simone e Fabrizio Boccetti per il programma di approfondimento sportivo di WeWantRadio del lunedì fatti di sport. Ragazzi, per questo sabato è veramente tutto, noi vi lasciamo alle partite della 26esima tornata di Serie A, vi ricordiamo che c'è tempo fino alle ore 17.30 per fare le vostre formazioni, non ve le scordate, fatele subito, perché poi altrimenti si rischia di non avere tempo e ritorniamo come al solito, lunedì sera, lunedì frattempo, buon weekend e buon campionato. WeWantRadio presenta Fanta Manager, una guida sicura per le scelte più importanti del tuo fantacalcio. Scala la classifica della tua Fanta Lega, Fanta Manager, i consigli giusti. Solo su WeWantRadio.